La stagione dei grandi tagli alla sanità sulla pelle dei cittadini si inaugurerà a breve e contribuirà ad aumentare le criticità della regione. Lo denuncia Domenico Pettinari, consigliere comunale di Pescara e presidente del movimento politico Pettinari per l'Abruzzo, che è tornato a incatenarsi davanti al CUP dell'ospedale Santo Spirito per riportare l'attenzione sui disservizi dell'ASL di Pescara, tra liste d'attesa infinite, carenza di personale sanitario e macchinari fatiscenti. Siamo tornati per l'ennesima volta a manifestare di fronte all'ospedale di Pescara, ma per parlare di tutta la sanità provinciale, quindi dell'ASL di Pescara. A seguito degli ultimi dati che abbiamo letto sui giornali, dove il disavanzo della sanità è di tantissimi milioni di euro, quindi siamo anche fortemente preoccupati per i tagli che ci saranno. Solo nell'ASL di Pescara ci dovrebbero essere 5 milioni di euro di tagli, significa tagli ragioneristici già sulla spesa farmaceutica, sui servizi, sui macchinari. Oggi come oggi noi abbiamo lunghissime liste d'attesa. Le liste d'attesa stanno causando enormi disagi e danni, ma non solo. Anche entrare in un pronto soccorso significa entrare in un grande calvario. Abbiamo liste d'attesa di giorni e giorni all'interno del pronto soccorso, ma non per colpa del personale medico che noi ringraziamo, che non sono messi nelle condizioni di poter operare, perché quando il personale medico chiede di poter ricoverare, dal reparto rispondono che non ci sono i posti letto e anche quando si chiede il ricovero in strutture esterne, in residenze assistite, si risponde che non ci sono i posti letto. Quindi le nostre proposte quali sono? Uno, elevare subito l'ospedale di Pescara a DEA di secondo livello perché altrimenti non risolveremo più questi problemi. Elevare a DEA di secondo livello significa avere un polo specialistico di alta specializzazione che può incrementare il personale, può avere il personale sufficiente. Due, aumentare i posti letto perché servono posti letto nei reparti, ma soprattutto riclassificare gli ospedali minori di penne popoli che sono stati colpevolmente declassati negli anni. Quindi il depotenziamento di queste strutture fa in modo che tutti i pazienti anche della provincia dell'area vestina si riversano sull'ospedale di Pescara e poi il potenziamento della medicina territoriale. La medicina territoriale deve poter tornare a funzionare. Ad esempio i codici bianchi e i codici verdi non devono essere più trattati dal pronto soccorso ma trattati nella medicina territoriale. Ad allungare l'elenco delle criticità denunciate, anche l'assalto al reparto di oncologia del Santo Spirito di Pescara dei giorni scorsi e l'allagamento dell'ospedale dopo il violento nubifragio di martedì. Noi naturalmente esprimiamo grande solidarietà al personale sanitario che ha subito quell'attacco ingiusto e ingiustificato, quell'aggressione degli ultimi giorni ma chiediamo anche che nei reparti vi sia la vigilanza armata. E poi non è possibile che l'ospedale di Pescara ad ogni pioggia ma già dopo i primi 20 minuti si allaga e soprattutto si interrompono le attività importanti perché si allagano le sale operatorie e frequentemente anche i parcheggi seminterrati dove ci sono delle macchine. Queste sono tutte proposte che noi avanziamo al Presidente di Regione, all'assessore regionale alla Sanità Verì e al Sindaco di Pescara nella sua vesta di Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci. Torniamo ad incatenarci e ci auguriamo che qualcuno questa volta ci ascolti.